Cos'è il content marketing e come sfruttarlo? In rete da qualche anno gira uno slogan tra i digital marketer The content is king Questo perché si è capito che per attrarre nuovi clienti e visitatori bisogna informare e intrattenere Content marketing in termini spiccioli significa proprio fornire contenuti informativi ed educativi al tuo pubblico ed aumentare così il valore della tua figura professionale Nel tuo piccolo, se sei un professionista, un imprenditore digitale, un networker pianifica settimanalmente informazioni e argomenti inerenti al tuo settore Rielaborali e pubblica sui tuoi canali sociali senza chiedere nulla in cambio Pensi che tutto questo sia una perdita di tempo? Beh allora chiudi il pc e abbandona questo mondo